Ma perché, ma perché, ma perché, quella cosa che non c'è, che piaceva tanto a me. Aveva un occhio di vetro ed una gamba di gesso, a me piaceva lo stesso, a me piaceva lo stesso. Aveva i capelli di stoppa e i denti fuori di bocca, a me piaceva lo stesso, perché scapeva a cazzarmi. Mamma, torero, testifica, devo palpar la figa, ma a me non me la do. Mamma, torero, ma è quello, devo palpar il quello, ma a me non me lo do. Escorazione, mamma, devo palpar il peso del quello. E qui sei presa, lo scuolo, che non si può guarire. E qui sei presa, lo scuolo. Alla bene, abbiamo cambiato le persone, che non si può guarire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.